Un digiunatore, Kafka In questi ultimi decenni l'interesse per i digiunatori è molto diminuito. Mentre prima meritava metter su spettacoli di questo genere per proprio conto, oggi sarebbe assolutamente impossibile. Erano altri tempi quelli. Tutta la città si occupava allora del digiunatore. Ogni giorno di digiuno aumentava l'interesse del pubblico. Tutti volevano vedere il digiunatore almeno una volta al giorno e negli ultimi giorni c'erano perfino degli abbonati che sedevano intere giornate davanti alla sua piccola gabbia. Anche di notte avevano luogo le visite alla luce delle fiaccole per aumentare l'effetto. Quando il tempo era bello, la gabbia veniva trasportata all'aperto e allora erano specialmente i bambini a cui veniva mostrato il digiunatore. Mentre per gli adulti costituiva spesso solo uno spasso a cui si partecipava perché era di moda. I bambini lo guardavano ammirati a bocca aperta, tenendosi per precauzione per la mano, mentre egli, pallido, nella sua maglia nera, con le costole esageratamente sporgenti, se ne stava seduto sopra paglia sparsa qua e là, facendo a volte un cenno cortese con la testa, a volte rispondendo alle domande con un sorriso forzato o allungando un braccio attraverso le sbarre per far palpare la sua magrezza. E finiva poi per sprofondarsi in se stesso, senza occuparsi più di nessuno, neppure del battito dell'orologio, così importante per lui, unico mobile della sua gabbia, per guardare fissamente con gli occhi chiusi dinanzi a sé, succhiando di quanto in quanto un sorso d'acqua da un minuscolo bicchierino per inumidirsi le labbra. Oltre agli spettatori consueti e mutevoli, c'erano anche dei guardiani fissi scelti dal pubblico, che per una strana coincidenza erano di solito macellai e, sempre a tre per volta, avevano il compito di sorvegliare il digiunatore giorno e notte perché clandestinamente non riuscisse a nutrirsi in qualche modo. Ma era solo una formalità, adottata per tranquillità della folla, poiché gli iniziati sapevano bene che il digiunatore, durante il periodo, non avrebbe toccato nessuna qualità di cibo a nessun costo, neppure se vi fosse stato costretto. Lo impediva il rispetto verso la sua arte. Ma, naturalmente, non tutti i guardiani potevano intenderciò. A volte si formavano dei gruppi di sorveglianti notturni che compievano il loro dovere molto superficialmente. Si ritiravano di proposito in un cantuccio, lontano, per distrarsi tutti a giocare le carte, con l'intenzione evidente di dare al digiunatore il modo di fare un piccolo spuntino che, a loro parere, avrebbe potuto consumare ricorrendo a qualche segreta riserva. Per il digiunatore nulla era più penoso di questi guardiani. Lo facevano diventare melanconico, gli rendevano terribilmente difficile il digiuno. A volte riusciva a vincere la sua debolezza e cantava durante la veglia finché aveva fiato per mostrare a quella gente quanto ingiustamente sospettavano di lui. Ma serviva a poco perché quelli, invece, lo ammiravano per la sua abilità di mangiare perfino mentre cantava. Preferiva di molto quei guardiani che si sedevano proprio vicino alla gabbia e non contenti della fuoco-illuminazione notturna della sala. Lo illuminavano con lampadine elettriche tascabili che l'impresario metteva a loro disposizione. Quella luce cruda non lo disturbava per nulla. Tanto dormire non poteva, mentre gli riusciva di appisolarsi un poco sempre, con qualsiasi illuminazione e a qualsiasi ora, anche se la sala era piena di gente e di fracasso. Egli era dispostissimo a passare la notte con quei guardiani senza dormire mai. Era pronto a scherzare con loro, a raccontare loro qualche storia della sua vita errante, ad ascoltare a sua volta i loro racconti. E tutto soltanto per tenerli svegli, per convincerli continuamente che non c'era nulla da mangiare nella gabbia e che egli digiunava come nessuno di loro avrebbe potuto fare. La sua felicità toccava il colmo, però, quando faceva giorno e a sue spese veniva portata loro un'abbondantissima colazione su cui si gettavano con l'appetito proprio delle persone sane dopo una faticosa veglia notturna. C'era, è vero, della gente che vedeva in questa colazione una scandalosa circonvenzione dei guardiani da parte sua. Era un andar troppo oltre e quando si chiedeva a quelle persone se fossero disposte ad assumersi la veglia notturna senza colazione per andare in fondo alla cosa si direguavano pur restando fedeli ai loro sospetti. Questo d'altronde faceva parte di quei sospetti che circondavano comunque l'arte del digiuno. Nessuno, infatti, era in condizione di passare tutti quei giorni e quelle notti ininterrottamente come guardiano accanto al digiunatore e nessuno, dunque, poteva sapere per propria esperienza se il digiuno veniva osservato davvero senza interruzioni in maniera assoluta. Solo il digiunatore in persona era in grado di saperlo e di essere così anche lo spettatore pienamente soddisfatto del suo digiuno. Egli, invece, non era soddisfatto mai per un'altra ragione. Forse non era dimagrito per il digiuno tanto che alcune persone, fur dolenti erano costrette a rinunciare a quello spettacolo perché non sopportavano la sua vista ma piuttosto perché non era soddisfatto di sé. Egli non sapeva e nessun iniziato lo sospettava quanto fosse facile il digiunare. era la cosa più facile del mondo. Non lo nascondeva neanche ma non gli si prestava fede e nel migliore dei casi lo si riteneva modesto più spesso avido di pubblicità o addirittura un imbroglione a cui il digiunare, certo, era facile perché sapeva renderselo tale e aveva anche la faccia tosta di lasciarlo intendere. Tutto questo ormai l'aveva dovuto sopportare e nel corso degli anni ci si era perfino abituato ma nell'intimo questo malcontento lo rodeva sempre tant'è vero che mai dopo nessun periodo di digiuno questa testimonianza non gli si poteva negare aveva lasciato la gabbia spontaneamente. Come termine massimo del digiuno l'impresario aveva fissato 40 giorni non gli permetteva di superare mai quel limite neppure nelle metropoli e non senza ragione. L'esperienza insegnava che sino a 40 giorni si poteva aumentare gradatamente l'attenzione di una città con una pubblicità sempre più intensa. Più a lungo il pubblico non rispondeva più si notava una sensibile diminuzione dell'affluenza c'era naturalmente qualche divario sotto questo aspetto tra un paese tra una città e l'altra ma la regola era che 40 giorni costituissero il limite massimo il quarantesimo giorno la porta della gabbia inghirlandata veniva aperta una folla di spettatori entusiasti gremiva l'anfiteatro una banda militare suonava due medici entravano nella gabbia per fare le misurazioni di rito al digiunatore con un megafono venivano diffusi tra la gente i risultati dell'esame medico e finalmente arrivavano due giovani signore felici ad essere state designate dalla sorte per aiutare il digiunatore a uscire dalla gabbia scendere due scalini e arrivare sino al tavolino dove era imbandito un pranzo da malati preparato con cura a questo punto il digiunatore si ribellava sempre porgeva di buon grado sì le braccia scheletrite alle signorecchine su di lui che gli tendevano le mani pronte ad aiutarlo ma non si voleva alzare perché smettere il digiuno proprio ora dopo 40 giorni avrebbe resistito ancora più a lungo per un tempo illimitato perché farlo smettere proprio ora che era nel punto culminante del digiuno anzi non c'era ancora arrivato perché defraudarlo della gloria di continuare ancora a digiunare di diventare non solo il più gran digiunatore di tutti i tempi questo forse lo era già ma di superare perfino se stesso sino a un punto incredibile perché sentiva che le sue possibilità di digiunare erano addirittura illimitate perché quella folla che dimostrava di ammirarlo tanto aveva tanta poca pazienza con lui se resisteva lui a digiunare ancora perché non voleva resister lei e levava lo sguardo verso gli occhi di quelle signore apparentemente così gentili in realtà così crudeli scuotendo la testa troppo pesante per il suo debole collo e poi era stanco se ne stava bene lì nella paglia e doveva invece rizzarsi in tutta la sua lunghezza per andare verso quel cibo il cui solo pensiero gli procurava una nausea che solo per riguardo al signore cercava faticosamente di soffocare ma poi avveniva quel che capitava sempre interveniva l'impresario e senza dire una parola la musica non permetteva di scambiarne neppure due levava le braccia sul digiunatore come se invitasse il cielo a guardare una buona volta sulla paglia la sua opera quel povero martire e questo il digiunatore lo era ma in tutt'altro senso afferrava il poveretto per la esile vita facendo credere con un eccesso di precauzione di avere a che fare con un oggetto molto fragile per consegnarlo poi non senza averlo di nascosto scosso un poco facendogli così oscillare in qua e là senza controllo le gambe e il busto alle signore che erano intanto mortalmente impallidite da quel momento il digiunatore tollerava tutto la testa pendeva sul petto come se fosse rotolata lì per caso fermandosi per una qualche ragione inspiegabile il corpo era tutto incavato le gambe con le ginocchia serrate per istinto di conservazione raspavano il suolo come se non fosse quello vero ma lo stessero a quel modo soltanto cercando e tutto il peso per quanto modesto del suo corpo gravava sopra una delle signore non sarà certo immaginata così quell'incarico onorifico prima allungava il collo quanto era possibile per preservare almeno il viso dal contatto col digiunatore ma poi vedendo che non si riusciva e che la sua più fortunata collega non le veniva in soccorso ma si contentava di rezzere tremando davanti a sé la mano del digiunatore un mucchietto d'ossa scoppiava in lacrime tra le risate di soddisfazione della sala per venire subito sostituita da un inserviente pronto già da tempo poi veniva il pasto di cui l'impresario faceva ingerire qualche boccone al digiunatore caduto in un dormiveglia simile a un deliquio mentre parlava allegramente per distrarre l'attenzione del pubblico dallo stato pietoso in cui il poveretto si trovava poi veniva ancora un brindisi al pubblico e l'impresario dava a intendere che glielo aveva sussurrato il digiunatore stesso la banda sottolineava tutto con una rumorosa fanfara finale e la folla si disperdeva e nessuno aveva più diritto di essere scontento dello spettacolo tranne il digiunatore lui soltanto sempre così aveva vissuto per molti anni con brevi e regolari intervalli di riposo in mezzo a un apparente benessere rispettato dal mondo eppur quasi sempre immerso in una cupa malinconia che diveniva sempre più cupa perché nessuno riusciva a prenderla sul serio e come d'altronde consolarlo che poteva ancora desiderare e se per caso capitava una volta una persona di buon cuore che lo compativa e gli voleva spiegare come quella malinconia probabilmente venisse dal digiuno poteva anche accadere specie quando il digiuno era già molto lungo che il digiunatore rispondesse con un impeto di furore e tra lo spavento di tutti ci mettesse a scuotere le sbarre della gabbia come una bestia ma in casi simili l'impresario ricorreva a una punizione che usava di preferenza scusava il digiunatore dinanzo al pubblico radunato ammetteva che si poteva perdonare il contegno del digiunatore solo pensando a una irascibilità provocata dalla fame e solo difficilmente immaginabile da chi era sazio veniva poi di conseguenza a parlare per spiegarla nello stesso senso dell'asserzione del digiunatore di poter prolungare il digiuno molto più di quel che già non facesse lo dava il nobile intento la buona volontà la grande abnegazione contenuti certo anche in questa asserzione ma tentava poi subito di svalutarla mostrando semplicemente delle fotografie subito messe in vendita in cui si vedeva il digiunatore giunto al quarantesimo giorno in un letto quasi esausto dalla debolezza questa maniera a distorcere la verità per quanto ben nota al digiunatore riusciva pur sempre a snervarlo ogni volta ed era veramente troppo per lui quella che era la conseguenza di un'anticipata fine del digiuno veniva presentata qui come la causa era impossibile lottare contro una simile incomprensione contro questa universale incomprensione ogni volta era rimasto ad ascoltare ansiosamente e fiducioso attaccato alle sbarre l'impresario ma quando comparivano le fotografie abbandonava ogni volta la gabbia per ricadere con un sospiro sulla paglia mentre il pubblico tranquillizzato poteva riavvicinarsi e guardarlo i testimoni di queste scene quando ci ripensavano qualche anno dopo non riuscivano quasi più a comprendere se stessi perché nel frattempo era intervenuto quel mutamento cui si è accennato ed era sopraggiunto quasi d'improvviso ci sarà stata certo qualche ragione profonda ma chi si prendeva la briga di andare a cercarla comunque un bel giorno il digiunatore così viziato dal pubblico si vide abbandonato dalla folla desiderosa di divertirsi che affluiva ormai ad altri spettacoli un'ultima volta l'impresario se lo trascinò dietro in fretta per mezza Europa per vedere se qua e là non rispuntasse l'antico entusiasmo ma fu tutto vano come per una segreta intesa si era destata una vera avversione per il digiuno come spettacolo naturalmente questo fenomeno non si era potuto verificare in realtà da un momento all'altro ed ora tornavano in mente in ritardo alcuni segni precursori di cui a suo tempo nell'ebbrezza del successo non si era tenuto abbastanza conto né sufficientemente ostacolata l'apparizione ma era troppo tardi ormai per combatterli in qualche modo era bensì certo che sarebbe tornata un giorno l'ora fortunata del digiuno ma non era sufficiente conforto per quelli che vivevano allora cosa doveva fare il digiunatore uno che si era visto acclamare da migliaia di persone non poteva esibirsi nei baracconi delle piccole fiere di campagna per mettersi a fare un altro mestiere il digiunatore non solo era troppo vecchio ma soprattutto troppo fanaticamente attaccato alla sua arte così egli congedò l'impresario compagno di una carriera senza pari e subito si fece scritturare da un gran circo per riguardo alla sua suscettibilità non volle neppure vedere le clausole del contratto un gran circo con quella marea di persone di animali e di arnesi che si equilibrano e si completano l'un con l'altro può sempre utilizzare chi che sia in qualunque momento anche un digiunatore naturalmente purché abbia pretese relativamente modeste inoltre in questo caso particolare non era soltanto lui ad essere scritturato ma anche il suo nome da tempo ormai celebre anzi per la singolarità di quest'arte che con l'aumentare degli anni non soffriva diminuzioni non si poteva neanche dire che in questo caso un artista ormai invecchiato non più nel pieno splendore dei suoi mezzi si fosse rifugiato nel tranquillo impiego di un circo che anzi il digiunatore assicurava e gli si poteva credere che avrebbe continuato a digiunare come prima affermava perfino che se lo lasciavano fare e gli fu promesso senz'altro avrebbe proprio ora stupito il mondo e con ragione un'asserzione questa che considerando l'umore del tempo e il digiunatore nel suo entusiasmo se ne dimenticava facilmente suscitava nella gente del mestiere solo un sorriso in fondo anche il digiunatore si era reso conto del reale stato delle cose e considerò quindi naturale che non lo si mettesse con la sua gabbia nel mezzo della pista come un numero sensazionale ma fuori in un posto del resto comodamente accessibile in vicinanza delle stalle grandi cartelli variopinti incorniciavano la gabbia spiegando al pubblico cosa c'era da vedere in quel luogo quando durante le pause dello spettacolo la gente si affollava verso le stalle per vedere le bestie era quasi inevitabile che passasse davanti al digiunatore e si soffermasse un attimo davanti a lui forse c'era che si sarebbe trattenuto anche più a lungo se non ci fossero stati nello stretto corridoio quelli che venivano dietro e non comprendevano la ragione di quell'indugio sulla via che portava alle ambite stalle rendendo così impossibile una visita più prolungata e pacata questa era anche la ragione per cui il digiunatore tremava al pensiero di queste ore di visita di cui pure era ansioso come dello scopo della sua vita nei primi tempi non vedeva l'ora che queste pause dello spettacolo arrivassero la vista di quell'ondeggiante massa di gente che si avvicinava l'aveva incantato sinché non si era presto convinto anche la più tenace quasi consapevole illusione non aveva resistito all'esperienza che intenzionalmente erano tutti senza eccezione dei visitatori delle stalle lo spettacolo della gente che si avvicinava da lontano rimase la sensazione migliore perché appena era giunta vicino a lui egli veniva come sopraffatto dal gridio e dalle dispute di due gruppi che si formavano di continuo uno di coloro che volevano guardarselo comodamente e presto divenne per il digiunatore il gruppo più sgradito ma non per una vera comprensione bensì per capriccio e puntiglio e un altro di coloro che prima di tutto voleva giungere alle stalle passato il grosso del pubblico venivano poi i ritardatari e proprio questi cui nessuno impediva di fermarsi quanto volevano gli passavano dinanzi allungando il passo senza quasi degnarlo di un'occhiata per arrivare in tempo a vedere gli animali e non era davvero molto frequente il caso fortunato di un padre di famiglia che arrivando lì coi figliuoli accennava col dito al digiunatore spiegando loro minuziosamente di che si trattasse ricordando i tempi andati in cui aveva assistito a esibizioni simili ma molto più grandiose i bambini scarsamente preparati su questo argomento dalla scuola e dalla vita che poteva significare per loro patir la fame continuavano a starsene lì senza capire ma nello splendore dei loro occhi incuriositi pareva di intravedere il riflesso di tempi nuovi lontani ancora e più caritatevoli forse si diceva a volte il digiunatore tutto sarebbe andato meglio se non lo avessero collocato tanto vicino alle stalle così la gente aveva una scelta troppo facile per tacere poi che le esalazioni delle stalle l'irrequietezza delle bestie nella notte il passaggio dei pezzi di carne cruda per le belve i ruggiti che ne accompagnavano i pasti lo disturbavano molto e lo deprimevano continuamente non osava però rivolgersi alla direzione del circo per protestare in fondo doveva alla presenza delle bestie quella folla di spettatori tra cui poteva pur capitarne di quando in quando uno destinato a lui e chissà dove l'avrebbero cacciato se richiamava l'attenzione della direzione sopra di sé e quindi anche sul fatto che in conclusione egli costituiva solo un ostacolo sulla via che conduceva alle stalle un piccolo ostacolo però e ci faceva sempre più piccolo ci si abituò alla stranezza in tempi come i nostri di reclamare l'attenzione del pubblico sopra un digiunatore e con questa abitudine il suo destino fu segnato poteva digiunare quanto voleva ed egli lo faceva ma nulla lo poteva più salvare nessuno più si curava di lui si provi qualcuno a spiegare l'arte del digiuno a chi non la conosce non si può darne un'idea bei cartelloni con le iscrizioni divennero sudici e illegibili vennero strappati via e a nessuno venne in mente di sostituirli la piccola tabella poi col numero dei giorni di digiuno compiuti che nei primi tempi veniva rinnovato ogni giorno rimase per lungo tempo sempre la stessa poiché dopo le prime settimane al personale del circo anche quella piccola fatica era parsa troppo e così il digiunatore continuava a digiunare come aveva sognato un tempo e gli riusciva senza sforzo come aveva predetto ma nessuno contava più i giorni nessuno nemmeno il digiunatore sapeva quanto alta era ormai la sua prova e il suo cuore si sentì oppresso e se una volta in quel tempo qualche sfaccendato si fermava davanti alla gabbia considerava con ironia la cifra altissima e parlava di imbroglio era in questo senso la più stupida menzogna che l'indifferenza e un'innata malignità avevano potuto inventare poiché non era il digiunatore ad ingannare egli lavorava onestamente ma il mondo lo frodava del premio che si meritava e passarono ancora molti giorni ed anche questo finì un giorno la gabbia dette nell'occhio a un custode che chiese agli inservienti perché si tenesse lì quella gabbia ancora buona ad usarsi senza utilizzarla con tutta quella paglia fradicia nessuno lo sapeva sinché uno col soccorso dei cartelli non si ricordò del digiunatore la paglia venne smossa con delle stange e vi si trovò il digiunatore digiuni dunque ancora chiese il custode quando ti deciderai a smettere perdonatemi voi tutti sussurrò il digiunatore ma soltanto il custode che teneva l'orecchio accosto alle sbarre lo intese ma certo disse il custode toccandosi la fronte con un dito per accennare al personale lo stato in cui si trovava il poveretto ti perdoniamo ho voluto sempre che ammiraste il mio digiuno continuò il digiunatore e noi infatti ne siamo ammirati disse il condiscendente il custode e invece non dovete ammirarlo replicò il digiunatore e allora non lo ammireremo rispose il custode ma poi perché non dobbiamo farlo perché sono costretto a digiunare continuò il digiunatore ma senti un po' disse il custode perché non ne puoi fare a meno perché io disse il digiunatore sollevando un poco la sua piccola testa e parlando con le labbra puntite come per un bacio proprio all'orecchio del custode perché non riuscivo a trovare il cibo che mi piacesse se l'avessi trovato non avrei fatto tante storie e mi sarei messo a mangiare a quattro palmenti come te e gli altri furono le sue ultime parole ma nei suoi occhi spenti si leggeva ancora la ferma anche se non più superba convinzione di continuare a digiunare e ora fate ordine disse il custode e il digiunatore fu sotterrato insieme alla paglia nella gabbia fu messa poi una giovane pantera e vedere nella gabbia sia lungo deserta di menarsi quella fiera fu un sollievo per tutti anche per gli spettatori più ottusi non le mancava nulla il cibo che le piaceva glielo portavano senza tante storie e i guardiani non sembrava neppure non sembrava neppure che la belva rimpiangesse la libertà quel nobile corpo perfetto e teso in ogni parte sin quasi a scoppiarne pareva portare con sé anche la libertà sembrava celarsi in qualche punto della dentatura e la gioia di vivere emanava con tanta forza dalle fauci che agli spettatori non era facile resistervi ma si dominavano circondavano la gabbia e non volevano saperne di andar via grazie a tutti